A vent'anni sono andata a fare un provino per una pubblicità, ma ho sbagliato porta e sono finita a fare un provino per il cinema. Così sono diventata un'attrice, questo mi ha cambiato la vita. In Italia oltre un milione di bambini vive in povertà, senza opportunità per costruirsi un domani. L'educazione può illuminare il futuro dei bambini in Italia. Io sto con Save the Children per dare ai bambini educazione, opportunità e speranza. E tu?